Ciao, nei precedenti video ti ho sempre parlato del nostro piano strategico di vendita. Come poter vendere un immobile al miglior prezzo e nel minor tempo. Sappi che in Victoria Group ci occupiamo anche di locazioni. Proprio in questo momento mi trovo in un bellissimo parco di una bellissima villa nell'immediata adiacenza del centro di Formigine di Modena. Qualora tu dovessi affittare un immobile, contattaci, contatta Victoria Group. Sarà naturalmente un'occasione per conoscersi, ma soprattutto per condividere insieme a te tutti quelli che sono gli step del nostro piano personalizzato di marketing. Ti ricordo di cliccare like sulla nostra pagina Facebook, di iscriverti sul nostro canale YouTube, ma soprattutto ricordati, Victoria Group, scegli il tuo partner immobiliare.